Ciao ragazzi a tutti, sono Ian, bentornati in questo nuovo video Penso di dover alzare un pochino nessuno nel gioco perché altrimenti non si sentirà una mazza colorata E niente, oggi sono con il ciogatto perché mi hanno giftato questa skin bellissima ieri Quindi, ma sì, portiamolo perché Comunque sia, è sempre un pick forte in top lane È molto semplice da usare, quindi È molto semplice, è molto forte, quindi se ce l'avete, piccatelo sempre top lane Anche perché penso che abbia il 60% di basso il tempo Ok, qua c'è uno sgamato Allora, questo è l'ultimo game con lo smart che mi volete fare Almeno in streaming È una ranked questa comunque, perché oggi mi ridanno il main Oggi esattamente alle 12.49 mi ridanno il main Quindi oggi farò lo streaming col main E a proposito di streaming volevo dirvi che stasera, l'ho scritto anche sulla pagina, dalle 7.30 in poi Ci sarà il subday Per chi non sa che cos'è il subday, è un giorno, cioè uno streaming interamente dedicato Ai subscribers di Twitch, ovvero gli abbonati Per chi non lo sapesse, l'abbonamento si fa pagando coi soldi veri Paga, oppure facendolo col Twitch Prime Quindi se qualcuno ha intenzione di rinunciare a un caffè, una brioche Per fare il sub e venire estratti Per le varie attività che faremo stasera A me va solo che piacere Per ora siamo a 106 sub e mi piacerebbe tanto arrivare a 125 così Metto la nuova emoticon bellissima che ho già in mente Però ho bisogno del vostro Eh là là, già qua Ho bisogno del vostro aiuto per fare ciò Per fare ciò Comunque streamerò anche oggi pomeriggio Tipo alle 1.30 parla 2 Faccio uno streaming normale col main E poi stasera si fa il sub day Allora Il GP l'è un po' noioso Il GP l'è un po' noioso, eh Perché Perché i suoi barili sono un po' una chiavica I suoi barilozzi sono un po' una chiavica Io lo picchio perché sono più forti che lo picchiano Sì, ma ragazzi io non ho getti Io non ho getti Ipsi Non ho comprato gli item Sicuramente me lo state urlando da casa Da due ore Non ho comprato gli oggetti Ma ragazzi questa è tutta È una tattica Questo è next level Korean pro gaming Ora vi spiego come funziona Io non compro gli oggetti Perché tanto non mi servono Vado in base e mi compro direttamente quello che voglio È a posto Così non ho bisogno di sprecare nulla Doran Shield, Doran Ring Pozioni Ma che ne frega delle pozioni a Chokut Va che roba Mi prendo 23 HP e 365 di mana ogni mino che l'ha stitto Che cazzo me ne frega a me del man Cioè delle pozioni Va che schifo Va che schifezza Va che bellezza Va che bellezza e che schifezza Questo devo prendere Poi io ti prenderò il barilo in faccia E' stupido Questo qua lo prendiamo così Va bene Boom Questo lo prendiamo così Boom E quell'altro non lo possiamo prendere Uuuuuh Aspetta Arrivo io Arrivo io Arrivo io Flasha Uh bello Ok non aveva bisogno di me Ah bello un lucky Volevo prendermi un assist O una killettina Qua non c'è Vabbè qua c'è pazzo Se mamma Mi frega un cazzo del tuo Barile di merda Tanto per ora non fa danno Mi dovrò preoccupare dopo Del tuo barile Dopo in late game Quando avrà Infinity Edge Allora lì Mi dovrò preoccupare Sin What are you doing Ok Ma stavo farmando 19 Lui ha 11 Non vorrei pusharla così tanto Tu mi Uè Amico Amico Non me lo tenere sempre lì Se no in caso Non me lo vorrei tenere Oh 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 Questa si muore Me ne vado anch'io Perché se no ci muoio Ma sapete che non ci muoio Ah ma c'era un exhaust Ah chiaro Va bene Non è un problema Sapete perché Perché io ho 1200 HP Eh sì HP Ho 1200 gold E mi prendo questo Wow clown fiesta Però è morta Ciao Rihanna Ciao Rihanna Va bene abbiamo 1200 gold Avevamo 1300 gold Ci prendiamo anche una pink ozza Che male non fa Mi sto buildando No ho sbagliato Mi sto buildando Il catalyst adesso perché Per avere un T per sustain in lane Perché come voi Come voi sapete Come voi sapete Se non lo sapete Sappiatelo Il catalyst Ogni Scusate C'è 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 cosa No Il catalyst Come dice qua 15% di danni Presi dai champion Li spendi in mana Praticamente Come funziona Questo bello giocchino Il 15% Di danni Che mi fanno Cioè Me li fa Al mana Invece che Alla vita Sei un po' Una cosa strana No ho detto Una cazzata Volevo dire Volevo dire Che il 15% Dei danni Io li guadagno In mana Sorry Il mio Misunderstanding Inizia a farmi malino Inizia a farmi malino Il mister qua Inizia a farmi Malino Io ho bisogno Della ultimate Se non avessi Il sustain che ho Se non avessi Il sustain che ho Sarei Nella merda Non penso Di poterlo killare Non penso Di poterlo killare Non penso Proprio Di poterlo killare Comunque Forse sì L'uno è il 6 Però Ha la W La sua W È un parto La sua W È un parto Eh no Stavolta no Caronico Vabbè Mangiamoci i mini Tanto prima o poi Dovrò iniziare a staccare Prima inizio Meglio è Ok Prima inizio a staccare Meglio è Così mi faccio Tanti HP Comunque ho il doppio Dei sui mini Ah Spera ragazzi Vi spiego la gente Perché l'ho spiegato In modo molto brutto Il 15% Dei danni presi Lo guadagno come mana Spendere mana Vi fa recuperare Il 20% Del suo costo In HP Ok Ora lo spiegate In modo Sembra facile Non è facile Non è così facile Da capire Non è veramente Così facile Da capire Come può Sembrare È vero che non faccio Danno di No È vero Mi ero scordato Che non faccio Danno di W Perché non la sto Maxando Se maxa Si maxa Lai con il tuo gatto No Lo perde Questo mino Che palle Ok Lo ammazzerò Primo o poi Ma anche se non lo ammazzerò Continuerò a staccare HP E sarò più utile Io in tutta Il più luce Dipende Se è capace A fare i barili Si Se non è capace A fare i barili Si Se è capace Sei capace Ora vedete Lo stiamo costantemente Pressando A me interessa Questo Perché Io posso Pressarlo No Che cazzo fai Lo strombo Io posso Pressarlo Benissimo Vedete Me lo mangio Non mi fa danno Questa ho sbagliato A Dite che ho sbagliato Mi sa che ho sbagliato A non mangiarlo Perché potevo Ma la pusciamo Eh purtroppo non ci posso fare nulla qua Non ci potete fare nulla per la sauti Non posso interromperla Non interessa se mi spara Non mi interessa niente se mi spara Abbiamo il sustain infinito Non ci può chillare Lui neanche se piange Si può chillare Se metto il ninja tabi poi Può dire le sue preghiere GPR Perfetto Allora Lui recalla Glielo impediamo Glielo impediamo Se si perde 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 tempo Ricordiamoci che non ha il pipì L'ha usato assieme a noi Eh vedete che non può Non può recallare Non può recallare il signorino Eh non può Eh no che non può Eh no che non può Dai lo so che vuoi baitarmi col barilo Su Faccio Però non è neanche un barile Ma è un'alfora questa Bene Ah ha recuperato un po' di farm Oppure l'ho persa io Non ho mana per Non vuoi farmi il terzo barilo in realtà Orto Eh non ho mana Eh va bene Alla Non mi aspettavo Gradas Però sapete cosa Non è un problema Perché la nostra volta Ne ha fatto due kill There is no problem Chi l'ha presa una kill Non l'ha presa giù Vabbè dovevo aspettarmela Ho vissuto Praticamente due ore Sotto la sua torre Ora io mi chiedo Perché ho fatto questo Se non lo verò Perché sono scemo Perché sono scemo Io devo mettermi questo qua Devo mettermi questo qua Vabbè questo lo tengo Perché da HP è sempre utile Da HP è sempre utile Poi che altro La Roa Non mi piace fare la Roa Su ciò che non si fa più O.P. Ormai Si fa solamente HP 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 Solo vita Solo vita Se mi ha detto ciò Vita e resistenza Basta Non ha bisogno di altro Ti ho dato ulti Ma danno per centurare Più vita E ti danno qua Quindi Non solo la R Ma anche la E E soprattutto è importante Che ciò che abbia della mobilità E la Rage of Glory È fatta apposta per questo Infatti io dovevo Buildarmi quella Subito Anziché Questo coso Che non lo so Anche cosa lo evolverò Boh Forse mi faccio una Bissal Mask Orianna Orianna C'è Orianna e Gragas Ci sta Quindi farò la Bissal Mask Dai Non è stato Lo so Di fare il terzo barile Ma io non sono più stronzo Quindi Guardate i danni che gli ho fatto Perfetto Pozione 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 l'ha usata Pozione l'ha usata This mean That I will Fuck him Right now Porto 2 Ah devo aspettare Ah non posso Devo aspettare Ok ora ho usato la Le arance Continuo via No No Gragas non so dov'è Non so se posso Devarlo GG Effetto Perfetto Orianna è tiltata Orianna è tiltatissimo Z ha già 3-0 Madonna il doppio dei minion Dai raga voglio mangiarlo Allora la nostra ulti fa 375 Esattamente 375 Di true damage Quindi Appena lui Va sotto la soglia Di 375 Devo mangiarlo Potrei Staccare i minion Però voglio mangiarlo Ho fame Mi sono tankato Anche tra colpi di torre Quanti KPA 760 Eh no no Go bot Ok Un attimo Ora vado bot Giustamente La mia top Non bot Le voglio scambiarsi Le giusto Adesso è giusto Come deve scambiarsi Che cazzo Che cazzo Perfetto Andiamo back Andiamo back Adesso andiamo a bot Così posso farmare Tranquillamente Ce ne andiamo Allora Perché Perché la mia bot L'ha chiesto di scambiarci Ve lo spiego subito Perché Visto che loro Hanno preso la Loro hanno preso la torre Loro hanno preso la torre Vuol dire che Riusciranno ad andare top A prendere la mia Che io non riesco a prendere Perché comunque GP è web clear E GP si ritroverà Contro due persone Che sono fiddate Perché tra 1 e 1 e 0 Quindi molto probabilmente Riuscirà a pillarlo Andare avanti E io posso tranquillamente Tenermi 1 e 2 Perché non possono pillarmi Perché sono comunque un tempo Quello è Questo è il motivo Per cui si fa Il cambio Sì Sì Io sono andato Botlane Però Mi deve Un bisogno di me Mi sa Vabbè Quello è il motivo Per cui si fa il cambio È un ottimo Ottimo modo Per Rendere Efficiente Ancora di più La botlane Che è andata È andata in vantaggio La fate probabilmente Andare ancora più in vantaggio E poi vi guadagnate 3 farm Che alla fine È proprio quello Che vuole ciò Perché io devo solamente Zed è on fire Zed è on fire Zed è on fire Perché comunque Io voglio solamente Farmare Cioè Più farmo Più farmo Minion DR È più È più forte di vento Giustamente dopo 6.000 DR Non posso più Prendere stack Poi dovrò mangiare O i campioni Oppure Ma che cazzo fa Devo mangiare O i campioni O gli obiettivi Tipo i draghi L'herald E i bar Insomma Queste cose qua Boom Boom Ma ha già l'hard Dentro la tipa Eh sì Ha già l'hard Perché mi sono visto L'attac speed Boosta tantissimo Amica Tu ci muovi Possiamo fare il drake Ce lo facciamo il drake Che posso mangiarmi il cosa Allora Prima mi prendo questi Morgana 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 Mangia di frutti Mielosi Vabbè Questa me la mangio No Che stupido Sono stato Che stupido Sono stato Che stupido Sono stato Sapete perché Perché dovevo aspettare Un pelino di più Per mangiarla Cioè l'ho killata Però se non La stupido Il campione Con la R Non guadagni Stashe Vedete Fatene ancora 5 Io ho preso la kill E mi va bene Ma come due Però volevo mangiarla La killata Allora ci facciamo Le ninja tabi E poi Chi do me la vista Il maschio Ninja tabi Poi Ninonino L'ambulanza Che c'è sempre Per farci compagnia Non manca mai Lei è sempre fedele In ogni mio video In ogni mia streaming Ci vuole sempre essere L'ambulanza E la protagonista Di tutti i miei video E a lei Che deve avere successo Anzi A loro Perché ne passano 75 al giorno Boh Io continuo La mia opera Di struttura In botten C'ho 2200 hp 5 stack Sono poche Sono poche Dovevo averne Dovevo averne 6 Adesso Perché adesso Posso mangiarmi L'ultimo minion E poi non ne faccio più Dai minion Ovviamente Devo iniziare a mangiarmi I champion Però sono livello 10 Io ne ho 7 Orianna È la persona Più trittata del mondo In questo esatto momento Ah Siamo uniti di gigante Orianna È la persona più trittata Del mondo In questo esatto momento Non vorrei essere Nei tuoi panni O nel suo team Che stava sclerando Dicendo Oh What the fuck Stop Feed What the sake Forse era quel bisogno Di menti Infatti Adesso Stappoca Mi metto Per pusciare Mi piglio Sotto sta cosa E ora smetto Perché non bisogna Di me E io ho bisogno Di loro Per le stacche E io ho bisogno Di loro per le stacche Però la torre Me la piglio Eh Andiamo con questa torre Sapete che mi sa Che la kill Orianna Potrei vendicarmi Per quello Che ci ha fatto No Lasciamo perdere Andiamo Andiamo Feed Ora corriamo Tantissimo In questo oggetto Shockwave Takedowns Sto cosa Non l'ho mai vista Ah Fa un culo Ha guardato Ma è niente Eh Che fuori Non è che posso Adivare Leona Non posso Adivare Leona Amica Vai via Non so cosa sta facendo Il Dragas Ma Oddio Mi ha dato qualcosa in gola Aiuto Stavo Sto morendo Mi era andato qualcosa in gola Che sto facendo Sono pazzo Ragazzi Sono pazzo Sono pazzo O ero tutto in mente Sono pazzo Fatemi tornare Che ho il TP Fatemi tornare Che ho il TP Però dov'è che torno Ma ragazzi Ascoltate Faccio una cosa io Faccio una cosa io Tanto Riana Sta per morire Ho capito Che ho detto Che mi sto Dovevo gruppare Però C'è Però c'è la torre Qui da sola E io la prendo C'è la torre qua Da sola Io la prendo Che nuovo è gigante Ma che roba Mi pare logico No voglio vincere Ora stanno arrivando Da me Però Me ne vado Non lo killo Ah Mannaggia Mi ha predittato Mi ha predittato All in fire Dai Vuoi fare il triple bar Le l'ho assaggiato Ah Però non volevi farlo Guarda Questa volta ci mori Fatti mangiare Oh Mannaggia Ho un piccolo problema Aiuto Non so dove andare Non potevo andare Nessuna parte Ero un po' circondato Da tutto Vabbè Sapete cosa L'importante è che io Mi sia preso L'importante è che io Mi sia preso La mia bella stack E ora sto a sé E this is the important Ho preso pure Meta torre Va bene Ok abbiamo una bis Ora ci facciamo Un bel night's bow Un bel night's bow Così lo diamo anche a jinx Perché comunque il night's bow A noi dà 250 HP 40 di armi 10 cooldown Ed è tutta roba che ci serve Tutta roba che ci serve E costa relativamente poco Costa 1800 Vabbè Costa 2200 Che è pochissimo Che è veramente pochissimo Che è veramente pochissimo Ehm Can we do Eral? Ah no Non possiamo più L'ho chiamato un po' troppo tardi No Mi aveva tosse A volte mi sembra Che mi vuole Dovremmo grupparci By the way Ehm Shoulder Group and take Baron Oh al limite il drake Il drake è da 48 secondi Lui lo vorrei tantissimo Però più che altro Vorrei lui Ah si è fatto Si è fatto il Lush Whisper Adesso potrebbe essere Pericoloso GP Ehm Alla Trinity Non è da sottovalutare GP con la Trinity Non è da sottovalutare GP con la Trinity Proprio non lo è E anche il Last Whisper Non è da sottovalutare Mi fa Mi fa abbastanza danno E lo lo Arrivo Arrivo Mamma Mangiato Bastardo 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 Però io ho mangiato Ehi no E questa E tu E tu devi saltare Boom Apposto Sin Si è mezzo Si è giudato Io lo scavo Raga mi sa che stiamo un po' trovando Io non vorrei Trovarla Vorrei vincere Sono Ma sono sto caso Sono 4-3 Non sono neanche così tanto forte Al Z va botlane Sin dovrebbe smetterla di Di morire Cioè di buttarsela sui cigli Più che altro Questo ce lo facciamo 13 secondi a lungo Wow Quanto è comodo c'è Il sensor Vi da un botto E per spirito Quanto è comodo il sensor Questo me lo mango io Lo mangio a 1000 più 89 Ok Easy Easy mangiata Ok Ci prendiamo questo Ci prendiamo anche questo Sì ci prendiamo anche due No 400 No se ci prendiamo anche due Perfetto Ragazzi siamo enormi Let's go Baron I got ulti In 30 Let's scout Someone And do it Allora qual è il piano di adesso No? Qual è il piano? Abbiamo le lane pushate La bot sta pushando Noi ci gruppiamo Mid lane Qua Tutti quanti Sin non la pensa con me Vabbè Cattura Prendiamo qualcuno Tipo vedete Guarda qua Questi potremmo prendere Jinx dovrebbe Venire con noi Si potrebbero prendere Noi dovremmo fargli Una bella trappolona qua Dovremmo Dovremmo farlo Sin si sta esponendo troppo Però Jinx deve venire con noi Tanto possiamo aspettare Adesso Per esempio Guarda qui Quello è morto È morto È morto È morto Non voglio stilargli la kill Perfetto Perché so cosa vuol dire Ci facciamo il Baron Tanto abbiamo la mia R È quasi impossibile Che ci riescano a stilarlo Non hanno meno GP Non hanno lui Non hanno il cazzo Quindi Io lo smalterò Cioè lo smalterò Lo mangerò a 1200 Lo mangerò a 1200 Sempre se non lo fa mangiare Perfetto L'ho mangiato io Zed non so dove è andato Mi sa A suicidarsi Però va bene Andiamo back Ci prendiamo Un Nightbot Lo appiccichiamo a Jinx E siamo fine Dopo di questo Posso mettermi Ma posso mettermi molte cose Loro hanno danni misti Io ho resistenza per entrambi i team Potrei mettere una Tormail Potrei mettere La Gargoyle Neanche troppo Perché non funziona più con la R Potrei mettermi La Spirit Visage Ma no Mi sa che mi metterò Una Una War A questo punto A questo punto Così ho ancora più HP E se ne è riuscita bene Con la Ulti E poi mi dà un sacco di Altre gente Che male non fa Che male non fa Male non fa Wow bello Il Barile Quali possiamo Trattare Non ho bisogno Di chillare Anche se mi piacerebbe Tanto Ma non ho bisogno Io sono una Prontline enorme Giganterrima Ora no Potremmo far scoppiare Il Barile Non capisco Sinceramente Perché X-Ink Adesso Ha 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 Facciamo ore Facciamo questo Facciamo Vedete Io sto Tancando tutto Questo lo farei Io devo solamente Tancare Tancare E dal fastidio A GP Va che roba Va che roba Mi sono tancato Mezza torre Sono ancora vivo Mi sono tancato Mezza torre E sono ancora qua Vivo e vedo Questa è la potenza Di tuo gatto Cioè una delle tante Una delle tante A BZ Ma che roba Raga io mi sono Tancato il mondo Mi sono Tancato il mondo Mi sono Tancato il mondo Il mondo Io ora faccio Semplicemente così Tutto qua GG GG GWP E ci sono Correti a casa Molto probabilmente 20 punti Regalati Perché questo cerchio È schifoso E dovrebbero abusarlo Tutti qua Ora Vi ricordo Che all'una e mezza Barra 2 C'è lo streaming Normale Ranked sul main Ovviamente Il protagonista Zed Come sempre E stasera Alle sette e mezza Dalle sette e mezza In poi C'è il sub day Vediamo quanti punti Ho preso Tutto così Per curiosità Onoriamo Zed Perché ha giocato Molto bene Onoriamo Zed che ha giocato Molto bene Ho preso 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 23 LP Molto bene Ho preso anche Due honor Tre honor C'è qualcosa Dei due honor Ragazzi ci vediamo Oggi E stasera Bye bye Chau